Il Signor Mortara Mi taglierò la mia testa, papà. Non ti faranno niente. È Gesù crocifisso. Il figlio di Dio. Madonna? No, è morto. Lo hanno ucciso gli ebrei. Figlio mio, Edgardo, benvenuto. Questa è la tua famiglia adesso? Quanto dobbiamo restare qui? Tocca a fassi furbi. Se studi, non è una casa prima. La storia è andata su tutti i giornali. Ha fatto il giro del mondo, è arrivata fine in America. Orcus Domini nostri, Jesu Christi. Lo riempiono le bugie. Amen. Non ho scritto ovunque. Pare che anche Napoleone III non abbia gradito. solo a Dio devo rispondere. Io sono il Papa. Questo processo entrerà nella storia. Ma mio figlio. Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma. Salve Regina, Mater Misericordia. Siamo finiti. Siamo finiti. Viva la storia! Viva Polonia isorata! Siamo finiti. È temere! Vostro figlio è cristiano in eterno.